Deconcessionare strade e autostrade attraverso il trasporto su rotaia, l'obiettivo dell'accordo tra la Walter Tosto e la San Grittani in nome della transizione ecologica. La firma sta mani nei pressi della stazione di Chieti. Il futuro dunque viaggia su rotaia grazie al collegamento tra il centro Italia e Trieste. Luca Tosto, amministratore delegato della Walter Tosto. Parliamo di questa sinergia. In cosa consiste? Consiste nell'operare noi, nel continuare noi a fare la nostra fabbrica, quindi continuare a ricevere materiale della ceria per essere trasformato e rendere il prodotto che facciamo, che sono apparecchie impressioni, di grandissima dimensione. Di contro abbiamo la necessità di muovere grande quantità di acciaio e il miglior modo per muovere grande quantità è sicuramente l'utilizzo non più della gomma che in qualche maniera inquinante e crea traffico, per quanto è possibile andare con il treno. Alle sue spalle c'è un esempio. Sì, questa è una bellissima locomotiva con dietro agganciato qualcosa che all'apparenza sembra roba arrugginita, ma in qualche maniera sono lamiere di prima scelta che arrivano dai primari fornitori europei di acciaio, che poi vengono da noi trasformati e nel momento in cui quando saranno trasformati non saranno più trasportabili con ferrovia, in parte, in parte sì. Abbiamo anche l'interesse di fare dei semi lavorati e ritrasportarli nuovamente su un altro sito produttivo che è ad Ortona. Naturalmente questa è la seconda tipologia delle commesse che abbiamo. Viaggia sulla stessa onda, è il caso di dire anche Alberto Amoroso, CEO della San Grittana. La sinergia che oggi si rinnova con la Walter Tosto ci permetterà di essere al loro fianco per il trasporto degli acciai con i treni merci. Questo che significa? Che sostanzialmente diamo una mano a quella che è l'evoluzione della logistica. L'Italia a livello europeo ha preso degli impegni importanti con la comunità europea di far crescere il proprio trasportato su merci al 30% entro il 2030 del trasportato globale delle merci in Italia. Oggi partiamo dal 10-11%, quindi margini di crescita importantissimi, investimenti importantissimi in questo tipo di logistica, ma mirata a cosa? Mirata a decongestionare un po' le nostre autostrade, a ridurre i rischi dell'eccessivo trasporto su gomma, a ridurre anche la problematica della mancanza di autisti per le aziende di trasporto su gomma. No